ma adesso tu senti che ora mi sento benissimo ok adesso ti funziona bene allora aspetta che faccio i miei aggiustini ecco subito allora allora buonasera a tutti non è un appuntamento a sorpresa è un appuntamento posticipato ci sono stati un paio di problemi ieri che non ci hanno consentito di fare di fare questa diretta la recuperiamo oggi oggi se vogliamo è anche la giornata più giusta perché è iniziata la festa di hanukkah ci siamo siamo dentro la festa di hanukkah che lo dico così è una delle mie festività preferite forse la mia festa preferita in assoluto anche la mia in verità sono molto contenta questo lo dico perché ormai siete abituati a conoscere la mia dinamica con gola sono molto contenta che la festa duri otto giorni perché oggi non ancora non l'ho goduta per niente perché sono stanchissimo ho corso da tutte le parti come accade sempre prima di tutte le feste e quindi sono ben contenta che duri altri otto giorni perché infatti secondo me questa è la festa che amano di più i bambini perché è una sorta di adesso tu subito te la prendi con me è una sorta di natalone che dura otto giorni e no lo sapevo l'ho detto apposta per un compleannone puoi dire così no e vabbè dai però è la questione questa hanukkah ora vi spiegheremo che festa è arriva sempre intorno diciamo quasi sempre a dicembre perché lo sapete le festività ebraiche cambiano data il calendario è lunare quindi in genere cade a dicembre quest'anno è tutto molto in anticipo e quindi eccoci qui a novembre però col fatto che la festa cade a dicembre bisogna dirlo tu forse non hai di questi problemi perché giustamente viva una situazione che è una più precisa della mia ma per noi che viviamo un po' a contatto con quello che è molto molto a contatto con il mondo esterno c'è il problema della prossimità del natale quindi quando arriva a hanukkah festa di cui ora vi parliamo e che non c'entra niente col natale però uno io per esempio faccio otto regali per otto sere ai miei figli una grande festa del consumismo e esatto perché però lo facciamo non perché ci sia alcuna tradizione per farlo lo si fa un po' per contrastare no la diciamo la calamita dell'albero di natale del presepe di tutte quelle cose mi guarda con la faccia di quella che dice no sono venuti i primi regali di hanukkah allora allora questa però insomma tutte quelle lucine quella roba molto molto diciamo molto attrattiva l'ho detto apposta lucine perché questa è la festa delle luci l'ho detto apposta lo vedi questa me l'ero preparato la festività allora dura otto giorni l'abbiamo detto è caratterizzato dall'accensione ogni sera di una lucina in più dovete immaginare che c'è un candelabbro con otto braccia più una in mezzo che è questo shamash ne parleremo l'aiutante ogni sera se ne accende una in più quindi la prima sera una la seconda due la terza tre e così via la storia ora ce la racconta meglio gheula è riportata nel talmud io la la dico brevissimamente sono gli ebrei c'è sempre una famiglia di supereroi ebrei no un po quelli della marvel questa volta sono i maccabèi allora questa volta i maccabèi riconquistano il tempio di gerusalemme dopo una lunga dominazione greca vincono nonostante siano pochissimi poco armati e c'è sfigati rispetto ai greci lo riconquistano e che succede riconquistano il tempio ma si ritrovano con solo una piccola boccetta di olio per accendere quello che è invece il candelabbro non ad otto braccia ma quello a sei braccia più una sette che è il normale calendario meno a come fanno ad accenderlo non si sa questo olio invece di durare un solo giorno ne dura otto e così si festeggia questo miracolo dell'olio e ora entreremo entreremo nella questione l'ho raccontata malissimo vai dicela meglio tutti penso che ogni storia venga raccontata come una persona la vuole raccontare quindi non c'è una storia raccontata male c'è una storia raccontata a modi natania diciamo che quello che dobbiamo raccontare un po di questo sono i due aspetti di questa festa la prima il primo aspetto è una noi festeggiamo celebriamo questa vittoria proprio di una guerra e degli ebrei quindi dei maccabei di questa famiglia che erano dei famigliati di una famiglia di sacerdoti che hanno visto che nessuno prendeva l'iniziativa per combattere per cercare di contrastare l'egemonia dei greci che si erano insediati in quel momento e che avevano preso il predominio proprio sulla terra di israele e avevano cercato più che di eliminare fisicamente gli ebrei di staccarli il più possibile dalla loro religione conosciamo tutti la filosofia greca e sappiamo tutti che cosa è il modo di pensare dei greci che ha un modo di pensare che mette al centro di tutto l'uomo l'uomo la ragione la filosofia greca è la base di tutta la filosofia occidentale e quindi questa questa diciamo questo modo di pensare avranno cercato di applicarlo anche gli ebrei portando via il più possibile da loro quello che è l'approccio del sovra razionale che hanno sempre avuto gli ebrei che noi chiamiamo fede questa loro dava fastidio cioè ai greci dava molto fastidio che gli ebrei facessero qualcosa in nome di dio andava tutto bene lo studio della torà allora andava benissimo se era uno studio fino a se stesso per raffinarsi intellettualmente nel momento in cui però questo studio di la torà diventava ma alla fine perché mi serve per sapere come servire meglio dio quindi devo mangiare cascer non perché sto bene come essere umano in salute ma perché dio me lo dice devo osservare lo shabbat non perché devo riposarmi come persona certo anche questa conseguenza ma perché dio me lo dice questo loro dava molto fastidio e loro hanno cercato di prendere tirare via tutte queste cose soprattutto le cose che non sono spiegabili razionalmente dagli ebrei e hanno combattuto proprio la fede degli ebrei in un dio unico a tal punto che hanno posizionato una statua e dei al sacrificavano dei dei suini dentro al santuario e hanno apposta dissacrato tutte le boccette di olio non l'hanno buttato via l'olio con cui dio d'oliva extra 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 vergine con cui si accendeva il candelabro sette braccia che c'era nella santuario no non l'hanno buttato via l'hanno dissacrato perché hanno detto razionalmente l'essere umano per essere umano non c'è sacro e profano c'è l'olio non c'è l'olio quindi l'olio ce l'avete se volete accenderla questa questo bel candelabro per illuminare l'olio ce l'avete ma quello che non hanno voluto fare maccabei quando hanno vinto la guerra è stato quello di continuare il ragionamento e la logica che avevano i greci e quindi loro quando i maccabei hanno vinto e quindi hanno vinto erano pochissimi nella nostra nella preghiera che diciamo a hanukkah si dice che erano pochi contro tanti in realtà si dice sempre che cos'è come ci insegna la matematica si dice non sommare le mele con le pere o sono mele sono pere quindi fai due mele più due mele o due mele più due pere ok si dice che in realtà si dice nel talmud stesso ma chi erano i pochi chi erano i tanti in realtà si dice che erano pochi ebrei contro tanti ebrei perché tantissimi ebrei si sono ellenizzati in quella in quel momento si sono quello che noi chiamiamo oggi assimilati ecco perché è sempre troppo bello se nell'ebreismo per una volta ci sono i buoni cattivi no noi le cose le complichiamo sempre no sempre sempre ma in ogni storia è perché perché alla fine tanti ebrei si fanno sempre un po trasportare da quelle che sono le filosofie del momento nel modo del momento sai non è che gli combattiamo non ci si combatte l'un l'altro ma in quel momento era proprio una guerra per la sopravvivenza della tradizione ebraica e quindi c'è stato proprio bisogno di questa guerra c'è stata una guerra fisica però noi non celebriamo la vittoria della guerra la guerra e viene quasi messa in un secondo piano e celebriamo questo questa piccola ampollina che cos'è questa piccola ampollina praticamente appunto loro potevano i maccabei una volta che hanno che c'è stata la vittoria sono rientrati nel santuario hanno dovuto ridedicarlo a dio e per questo hanukkah hanukkah vuol dire dedicare qualcosa a qualcuno e vuol dire inaugurare hanno dovuto reinaugurarlo perché era stato dissacrato completamente e per inaugurarlo la prima cosa che hanno voluto fare è accendere questo candelabro sette braccia la famosa menorah ma non potevano farlo perché non c'era l'olio sacro l'olio ancora sigillato dal sommo sacerdote allora si sono messi a discutere perché gli ebrei discutono sempre hanno detto ma secondo la regola quando si è in un momento di grande urgenza sociale civica puoi usare ogni tipo di olio farete un'eccezione no no ma si poteva fare secondo la regola ebraica lo potevano fare questa eccezione ma non hanno voluto perché hanno detto no tutta la nostra guerra è stata combattuta per far vedere che noi crediamo in questa fede fino all'ultimo momento che per noi questa fede è la nostra vitalità e quindi se noi scendiamo a compromessi adesso e usi usiamo le boccette che non sono più sigillate noi dimostreremo che è possibile scendere a compromessi ogni tanto invece noi non vogliamo scendere a compromessi quindi si sono diventati matti per cercare questa andetta no finché noi non troviamo qualcosa di sigillato e hanno creduto ci hanno creduto non hanno smesso di cercarla questa ampolla e alla fine l'hanno trovata e con quella appunto come raccontato benissimo l'anno hanno acceso il candelabro e invece di durare un solo giorno come avrebbe dovuto a durare per otto giorni e da lì la celebrazione del miracolo e appunto c'è un poi una bellissima interpretazione che io ho studiato grazie al fatto che questa diretta con gheula mi stanno prosciugando io ormai eh avevo iniziato con un'idea più che fosse live che chiacchieravamo insieme invece poi ha preso il sopravvento un moto di secchionaggine per cui ogni volta adesso studio tantissimo e ho studiato una bellissima interpretazione di questa cosa cioè che questa è la festa un po' dell'olio della luce eh di quest'olio che fa il miracolo da una sola accensione diventa nuoto però questo olio e l'olio lo sappiamo è un materiale un elemento che non si scioglie nell'acqua che anche se tu lo metti nel grande fiume anche se tu lo metti diciamo nell'elemento maggioritario lui inizialmente sembra prendere la forma del materiale ma poi se ne ritorna nella sua posizione iniziale peraltro al di sopra e quindi c'è un po' l'idea che con Chanukka ci si ricordi di essere olio anche quando l'acqua ci tenta anche quando vorremmo diventare acqua vorremmo farci trascinare da una corrente ogni tanto magari diciamolo farci pure la vita un po' più facile invece no perché bisogna essere olio no bisogna essere olio nell'acqua o comunque diciamo olio e quindi riflesso e quindi luce e da qui appunto l'idea che però si debbano accendere perché almeno però accendiamoli tutti insieme queste otto fiammelle invece no una alla volta otto sere i miei figli sono molto contenti però diciamo che come al solito facciamo le cose in grande perché non è una serata di natale coi parenti sono otto perché uno alla volta perché beh ci sono tantissimi in realtà c'erano due scuole rabbiniche la prima scuola che diceva siccome il miracolo è stato è avvenuto ogni giorno di più questi ogni giorno tornavano dentro il santuario e trovavano che il candelabro e la menorà il candelabro sotto i bracciano ancora acceso quindi ogni giorno era un nuovo miracolo allora una scuola rabbinica diceva bisogna far così il primo giorno accendere otto candele perché il primo giorno è stato il miracolo che è stato trovato e poi man mano bisognerebbe scendere e fare il secondo giorno sette il terzo giorno invece la seconda scuola rabbinica che è quello che noi invece seguiamo dice no il primo giorno bisogna accenderne una il secondo giorno bisogna accenderne due perché il miracolo ogni giorno era ancora più grande perché all'ottavo giorno c'era statisticamente molta meno probabilità che questo olio messo dal primo giorno durasse ancora ma in realtà sapete che ormai avrete parato seguendoci che tutto quello che facciamo fisico in mondo materiale ha un riflesso in realtà spirituale e quindi anche questa festa ha un sacco di messaggi per noi per la nostra vita quotidiana e come ogni festa ebraica anche queste sono messaggi che ci portiamo dietro non solo per otto giorni ma per tutto il restante anno che viviamo e questo è uno dei messaggi importanti che trasmette la nostra festa e fa questa festa qui è il fatto che quando noi vogliamo cambiare quando noi vogliamo veramente avere un po questi piccoli miracoli nella nostra vita che cos'è il miracolo il miracolo andare contro la nostra natura e quindi cercare di fare un cambiamento un miglioramento dentro di noi è inutile che prendiamo e da un giorno dal dal giorno da domani ci svegliamo diciamo basta oggi cambio completamente perché come cambiamo radicalmente anche questo cambiamento verrà meno è difficile cambiare radicalmente in così poco tempo e quindi per avere veramente delle dei cambiamenti che faranno parte di noi della nostra natura bisogna fare in modo che questi cambiamenti avvengano lentamente ma lentamente ma con continuità per questo noi accendiamo il primo giorno una candela il secondo giorno due candele non è che ogni giorno accendiamo una sola candela per otto giorni no perché il primo giorno facciamo un passo il secondo giorno facciamo teniamo questo passo e ne facciamo uno successivo finché arriviamo a avere otto giorni questo è l'importanza dei piccoli passi quando uno pensa dice o faccio tutto o non faccio niente è la cosa più sbagliata che ci sia quando invece noi diciamo faccio una piccola cosa e questo in qualsiasi cosa nella religione nel nostro nelle relazioni che abbiamo con la nostra famiglia con i nostri amici con i nostri figli e i nostri e i nostri consorti un piccolo passo alla volta però tenerlo e continuare avanti ogni giorno ogni momento cercare di andare avanti e questo significa portare un po' diciamo il miracolo dentro le nostre case perché questo l'abbiamo capito tutte le feste sono in realtà diciamo metafora di qualcosa che può accadere in noi così come questi greci sono più che sono quelli che ci trascinarono che trascinarono gli ebrei nel paganesimo alcuni degli ebrei o comunque tentarono di portarli sono più che altro i greci dentro di noi no eh tutte quelle forze che ci vogliono portare spesso capita di essere attratti soprattutto quando si è un'identità molto minoritaria come quella ebraica dal dire vabbè senti però se tutti lo fanno no voglio dire non farà male nemmeno a me insomma qual è il problema perché dobbiamo sempre essere diversi e questo ovviamente capita agli ebrei ma capita credo a ognuno di noi come esperienza nella vita in generale no ci sono tanti momenti in cui uno dice sai che c'è ma perché io devo mettermi a notare questa cosa perché io devo avere l'asticella più alta dell'altro e dice chiudo un occhio però a noi piace attualizzare tutto no tutto tutto e allora è una cosa consegnata oggi mia figlia proprio questa è la cosa a volte si sta e a volte si sta più comodi a diventare come gli altri andare con la corrente è difficilissimo tenere l'asticella più alta però eh ma uno alle volte si chiede anche perché gheula perché uno deve avere sempre l'asticella più alta e inevitabilmente talvolta la applica anche ad altri è è questa è una delle prove non devi applicarla agli altri tu devi applicarla soltanto a te stesso perché questo è il nostro lavoro nel mondo nostro mondo se noi ci adattiamo e scorriamo con quello che sono diciamo forse le non buone abitudini degli altri e allora il nostro lavoro non lo facciamo se noi percepiamo che c'è necessità di tenerla alta questa sticella vuol dire che noi siamo capati di tenerla alta e quindi questo è il nostro lavoro ormai i nostri ascoltatori l'avranno capito che il nostro lavoro significa lavorare con noi stessi adesso è venuto il mondo per lavorare con noi stessi e per cercare poi piano piano e questo è l'altro messaggio nati di portare di diffondere questa luce ecco e ora ci arriveremo perché prima volevo affrontare un tema allora voi dovete sapere che a Canucca adesso mi dispiace non averla con me ma ovviamente se vado di lì sveglio le bestie noi a Canucca giochiamo i bambini giocano con una trottolina su questa trottolina sono raffigurate alcune lettere sintetizzo queste lettere la storia di questa trottolina è questa in realtà era un gioco per far studiare la Torah ai bambini perché c'erano delle lettere attraverso le quali venivano raccontate delle storie di Torah quando arrivavano i greci gli si diceva solo no 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 stanno giocando perché noi ovviamente i bambini li facciamo studiare da quando sono piccoli no è perché c'è questa cosa che io oggi ironizzo ma sono giorni in cui mi sento molto il peso di questo essere no sempre con l'asticella più alta quindi tendo ad essere un po polemica in questi giorni con questa cosa perché dico ma perché sempre allora è una cosa mia in questi giorni mi sento sottoposta a un regime capito più difficile degli altri adesso voglio decidere ormai ti tratto come una di famiglia ormai ero un po a te quando non c'è problema provo ad aiutarti quando non posso t'ascolto che già un aiuto no esatto comunque tornando a noi facciamo studiare i bambini da molto piccoli no e allora gli si faceva giocare si fanno giocare ma giocare imparando imparando storie di Torah quando arrivavano i greci gli si diceva no no sono bambini che giocano con le trottole però il motivo per cui racconto questa cosa è che su queste facce della trottola sono sintetizzate le iniziali di una frase che che è quella nes gadol aia po cioè un aia sciamma anzi dice la frase un grande miracolo avvenne lì però la cosa interessante che non ho sbagliato per caso è perché a me a scuola hanno insegnato a dire nes gadol aia po cioè il grande miracolo avviene qui allora il grande miracolo avviene sempre qui un grande miracolo può avvenire sempre il miracolo noi dobbiamo crederci nei miracoli infatti quello che noi non possiamo fare è stare seduti e dire arriva il miracolo perché noi proprio lo impariamo da questa storia più che ogni altra questa non è una festa che deriva dalla bibbia questa è una festa abbiamo due feste che sono state inserite grazie agli esseri umani e a loro darsi da fare che sono hanukkah e purim purim è il nostro carnevale diciamo così e queste sono due feste che non sono menzionate nella bibbia che però gli ebrei hanno inserito nel loro calendario delle feste ed è una cosa incredibile perché non sono feste che dio ha detto belle cose su feste diciamo comandate ecco non sono comandate da dio e questo proprio ci insegna che i miracoli se l'essere umano li cerca l'essere umano li trova però non possiamo aspettare che vengano così ma darci un sacco da fare per farle avvenire questi miracoli proprio lavorare senza fine e oggi ho sentito una storia molto molto bella da racconto veramente in breve di un una persona che di un ebreo che è stato da non so quante ha avuto miracoli su miracoli durante la seconda guerra mondiale una roba incredibile hanno spazzato via tutta la sua famiglia e lui è riuscito a sopravvivere arretate è riuscito a sopravvivere è cercato è riuscito a scappare dal treno che portava verso auschwitz l'hanno ripescato l'hanno portato ad auschwitz da auschwitz è riuscito a uscire è scappato l'hanno ribecchiato l'hanno riportato dentro alla fine è riuscito a sopravvivere è arrivato in australia dove si è sposato e ha avuto dei figli e ha scritto all'età di cent'anni cent'anni un libro su come credere nei miracoli ogni giorno e quindi penso che proprio questo sia il simbolo del miracolo cioè il miracolo è quello che noi facciamo avvenire nella nostra vita se noi ci crediamo davvero il miracolo è qualsiasi cosa che avviene al di sopra della natura e se sei una persona di fede tu sai che dio aspetta un tuo input che nella cabala si chiama il risveglio dal basso e quando tu ti risvegli dal basso e continua a far vedere a dio ci credo ci credo ci credo ci credo allora dice vabbè ci crede così tanto si dà da fare questo miracolo glielo faccio e ora avviene come dice la cabala avviene il risveglio dall'alto ma sempre deve venire il risveglio dal basso e secondo me questa festa è molto significativa perché questa è una festa in cui gli uomini si sono andati da fare gli uomini hanno vinto la guerra gli uomini hanno trovato questa ampollina eppure alla fine alla fine sappiamo che la guerra è stata una vittoria miracolosa l'ampollina è stata una cosa miracolosa però è stato tutto fatto dagli esseri umani ecco una cosa molto bella poi aspetta che leggo subito possiamo avere il titolo del libro ci chiede qualcuno dopo ve lo passo ok perché appunto continuate a scriverci io non sempre guardo ma spesso e allora uno dei precetti importantissimi di questa festa è questo e lo trovo bellissimo io allora il miracolo un po' per antonomasia noi siamo abituati ad interpretarlo come una cosa che accade a noi o comunque ad un gruppo ristretto di persone è una cosa talmente grande che a quante persone vuoi che capiti è un miracolo invece uno dei precetti fondamentali della festa di hanukkah è quello di rendere pubblico il miracolo cioè fare sì che appartenga a tutti e questo è il motivo per cui in realtà esiste l'obbligo di accendere questi lumi o direttamente in pubblico all'aperto oppure davanti alle finestre quindi si fa e questo c'è in molte piazze italiane delle città italiane ci sono delle grandissime hanukkah che si accendono al pomeriggio tardi è anche una bella cerimonia a cui partecipare e vi invito a farlo ma lo scopo è manifestare non solo che questa storia appunto è stata una storia bellissima ed è dimostrativa ma è neanche coinvolgere tutti in questa questione diciamo nel fatto che il miracolo può riguardare tutti e c'è una storiella che io ho studiato che dice appunto e se e ci sono stati dei momenti nella storia ebraica l'olocausto e tanti altri in cui non era possibile rendere pubblico questo miracolo e allora in questo caso bisognava come sempre se lo sapete gli ebrei hanno vissuto murati nelle case nascosti e quindi chiaramente potevano accendere questi lumi solo dietro finestre chiuse allora uno dice siccome questa festa è una festa in cui il miracolo deve essere pubblico che senso ha accendere una hanukkah all'interno di un appartamento se nessuno lo può vedere però anche in quel caso bisogna accenderlo lo stesso perché gheula ma in realtà ci sono due opzioni la prima è quella che si può accendere appunto bisogna accendere non posso dove lo vedono ma se uno per esempio vive a un piano molto alto e quindi se lo accende da fuori non si vede e bisogna accenderlo davanti a una mesusa quindi la menorata da una parte la candelabra da una parte dall'altra parte c'è la mesusa che è attaccata sullo stipite perché così ogni quando si passa si è circondati da due mitzvot da due cose sacre e quindi in realtà ovviamente ci sono per ogni cosa che ne facciamo c'è lo status ideale e poi c'è la possibilità di continuare a farlo anche nei momenti in cui questo status ideale viene meno però questo forse un'altra lezione di vita che non sempre tutto riusciamo a farlo alla perfezione ma non per questo dobbiamo rinunciare a farlo quindi in realtà quando anche non si poteva farlo in pubblico questo non significava che bisognava smettere di farlo questa è una cosa molto importante anche quando noi crediamo in qualcosa fortissimo e troviamo tantissima gente che contro di noi quando noi ci crediamo veramente sappiamo che questo è veramente è davvero un valore e non vogliamo rinunciare dobbiamo andare avanti a volte dobbiamo anche stare un po zitti aspettare che passi un po questa questa scia di contraddizione e poi ricominciare da capo quindi non sempre ci sono le condizioni ideali per essere quello che noi vogliamo essere ma questo non significa che una giustificazione per smettere di esserlo del tutto ma questa cosa qui del fatto di accendere nelle piazze pubbliche è una cosa che in realtà ha istituito adesso se voi guardate andate online scrivete Hanukkah Tel Aviv a Boston a New York a Sydney in tutte le principali capitali del mondo e in tutte le città del mondo vengono accese nelle piazze pubbliche proprio queste questi candelabri a otto braccia che prima non c'era questa usanza di farlo prima c'era l'usanza di metterlo davanti alle finestre poi il rebbe di Rubavic ha istituito detto no noi dobbiamo è stata una cosa che è stata istituita proprio dopo la seconda guerra mondiale dicendo che proprio ha portato un buio così profondo la seconda guerra mondiale che noi adesso dobbiamo prendere e cercare di diffondere più luce che possiamo e dobbiamo combattere questo buio con la luce e sappiamo che poca poca luce anche una fiamma piccola 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 accesa in una stanza dove c'è un buio molto profondo fa sparire il buio completamente e quindi noi noi siamo sempre stati quelli il popolo che porta la luce e ci prova a portarla anche nei posti più strani e diamo fastidio rompiamo le scatole perché ci sono civiltà che hanno voluto far vivere le nazioni nel buio invece arrivavano questi ebrei diciamo ma no accendiamo la luce perché le lasciamo le persone nel buio e questo effettivamente ne abbiamo parlato in alcune dirette in passato diciamo è anche un po e possiamo aprire il discorso prima di salutarci cioè c'è anche un po stato da parte degli ebrei per timore anche per i tanti eventi negativi che sono accaduti una certa ritrosia a far partecipare le persone a queste cose in questo appunto il rebbe di rubavich che che ha che ha citato che è una ma diciamo tutta un po' quella che è la filosofia cassidica quella per capirci che avete visto anche in stisel eccetera a far ricordato un po' a tutti gli altri ebrei che esiste una dimensione pubblica dell'essere ebrei che è fortemente responsabile di tutto il resto della comunità cioè che nell'osservare le nostre regole noi aiutiamo anche gli altri non perché le debbano osservare ma perché diciamo portino una luce in più nei posti dove ci sono gli ebrei e questo forse è quello un po' che anima me e Geula nel nel tentare di fare anche queste queste dirette no l'idea che anche da parte nostra ci sia stato magari alle volte per diversi motivi primo fra tutti quello diciamo della medesima incolumità fisica però il desiderio di condividere con gli altri queste feste e credo che Hanukkah sia una delle feste in cui condividiamo di più questa luce. Assolutamente sono d'accordo sono assolutamente d'accordo però direi che anche perché perché c'è una bella spiegazione proprio chassidica diciamo finiamo così con una spiegazione mistica di che cosa rappresenta la fiamma la fiamma è una cosa che veramente unisce tutta l'umanità perché la fiamma rappresenta l'anima se voi vedete come si muove la fiamma la fiamma si muove verso l'alto è come l'anima che cerca sempre di ritornare al proprio creatore alle proprie origini anela a andare verso l'alto però noi cosa facciamo la fiamma per poterla tenere accesa dobbiamo tenerla attaccata a qualcosa di materiale uno stoppino una candela dell'olio quindi abbiamo sempre bisogno di qualcosa che le permetta di stare attaccata altrimenti la fiamma non rimarrebbe accesa e questo è un messaggio per dire ragazzi il mondo materiale non è il nostro nemico il mondo materiale è quello che ci aiuta a tenere la fiamma accesa perché se non avessimo un corpo l'anima non starebbe qua e quindi dobbiamo imparare a fare collaborare questa dimensione spirituale con la dimensione materiale ed è questo il messaggio grande messaggio di chanucca è il messaggio di ogni festa ebraica ma messaggio veramente di chanucca fortissimo cioè la dimensione materiale non è il nostro nemico ma è il nostro aiutante per vivere meglio la nostra dimensione spirituale quindi quando noi lavoriamo possiamo prendere e vedere il nostro lavoro come un'occasione per crescere un'occasione per poter avere più denaro da poter distribuire ormai credo che i nostri amici siano molto chassidici anche loro però è proprio questa cioè questa è proprio la questa fiamma che unisce tutta l'umanità questa parte dentro di noi che è il nostro software spirituale che ci unisce tutti perché siamo esseri umani va bene allora lasciamoci con l'idea che in questi prossimi sette giorni cercheremo ognuno di noi nella propria anche dimensione materiale di lambire il resto del mondo con una fiamma diciamo che va verso l'alto allora ci vediamo la prossima settimana grazie buon chanucca a tutti chanucca tzamea